Allora, la serratura è aperta e quindi la chiave non gira, ok? Non fa niente, quindi tolgo la chiave. La dovrei chiudere premendo C, ma non fa niente, cioè premendo C non cede nulla. Quindi devo digitare R e il codice e si ferma a metà in questo punto che non si sapisce se è cliccato o meno e sarebbe adesso chiusa. E quindi se vado con la chiave, la chiave funziona. Tolgo la chiave, la cassaforte è quindi chiusa. Allora torno di nuovo ad aprirla, R e codice. Ecco, fa questi movimenti e poi questo coso qua si ferma a metà fra le lamelle e a volte proprio a metà che non tocca nessuna delle due. Chiudo il video.